Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Little Nightmares IDLC. Allora gente, stiamo continuando ad accumulare nomis per, in sostanza, portare il carbone dentro il macchinario e farlo alla fin fine funzionare. Wow, mamma mia, in quei momenti mi scrocio. E per funzionare questo macchinario ha bisogno di più nomis. Allora, vediamo un po' che cosa succede. Che è successo? Che cosa cavolo? Ah, ok. Ok, quindi questo non va bene? Questo va cambiato? Ok, vediamo un po'. Buio completo. Buio completo e assoluto. Oh! Porca miseria, che infarto! che mi ha preso? Via! Oh oh! E che diavolo gli faccio? Porca miseria, maledetta! Porca miseria! È andato via? Ok, adesso ho capito però. Allora, lui non ci vede, però ci sente. Quindi mi devo muovere dove non c'è quel cavolo di carbone. Devo fare molto piano. Non faccio rumore. Mamma mia! Aiuto! Che ansia, santi Dio! Che parte si va? Di qua? Ancora carbone. Tutto buio, non si vede niente, dannazione. Oh oh! Qui c'è tutto carbone, lì non si può andare. Ho sentito un rumore. Allora, lì c'è una porta chiusa. E non ci si può fare niente. Eccolo, lo sento. Dannazione, eccolo! Mamma mia. Aiuto. Secondo me le scale fanno rumore quando ci salgo. No. Invece no! No! Carbone! Che ansia, ragazzi! Oh, cazzo! Cristo santissimo! Dai che non ci arriva. Odiosissimo, maledetto. No! Porca miseria, come ho fatto a mancarlo. Ma che davvero. Oh no, dannazione. Devo rifarmi tutta sta parte. Vabbè, adesso comunque so cosa fare. Se non altro. Questo ancora funziona. E quello invece no. E va bene. Adesso da qua. Devo fare piano. In questa zona non c'è davvero niente. Credo. Donne ragazzi, che ansia. Devo semplicemente evitare il carbone. Come ho fatto al giro di andata. È andata benissimo. Oh, aspetta. Perché è di qua adesso? Piano. 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 Wow. Ok, se rimango qua non dovrebbe succedermi niente. Credo. Vediamo di non fare la stronzata che ho fatto l'ultima volta, per piacere. Che miseria, maledetta. Ok. Bene. E dovrei essere più o meno al sicuro. Credo. Ci sono degli armadietti qui. Possono essere aperti dal basso? Sì. C'è un cavolo di niente. Qui c'è un secchio. Dannazione. Qui c'è un... Ah, ok. Va bene. E dov'è che devo salire, però? Cos'è, per caso? Come l'ultima volta? Facciamolo subito, va. No, sembrerebbe... Di no. Vediamo. Dov'è che devo salire? Oh, beh. Aspetta. Forse proprio... Forse proprio qui. Effettivamente. Ehi. Sì. Proprio così. Andiamo su. Andiamo su. Ehm... Ehm... E quindi? Una volta fatto questo? Cosa dovrei... Ah, ok. Ho visto giusto. Ok. Perfettissimo. Andare di qua. Ah. Altro condotto stretto. Oh. Per l'amor di Dio. Fino a dove diavolo sto andando? Mamma mia, pensavo di non arrivarci. Davvero pensavo di non arrivarci. Mamma mia, che infarti. Che fa venire sto gioco. Oh. Guarda un po'. Un deposito di tante belle cosine come questa. E... Ce n'è una ancora funzionante lì. Effettivamente. Ok. Come ci arrivo? Ah, forse lo so. No. Ok, questo si apre. Ho aperto anche quell'altro. Ok. Direi che ci siamo. Perfetto. Trovata. Ora, domanda. Oh. Possibilmente senza morire, tipo. Domanda. Come ci arrivo io dall'altra parte? Potrei tirarlo contro il pulsante. Ehi, prendilo. Orco mondo. Ma beccato. Quindi? Così, proprio? Ho tutto com'è fatto a vedermi, scusa. Mi stavo muovendo silenziosamente. Vedi? Cosa assurda? Allora, è lì. Quindi se mi muovo di qua, dovrei poter... Ehi, ehi, ehi. Si sta muovendo anche lui. Via. Ok. Si è mosso. Quindi è andato di là. Piano, piano. Piano, piano, piano. Ok. Riconosco... Il posto e il passaggio. Quindi se con molta cautela... Vado di qua... Dovrei riuscire a passare senza che... Oh, ma sto dannato mi sta inseguendo, praticamente. Non si è fermato. No, se... Si sta muovendo di nuovo. Eh, che odio. Credo che usi anche l'olfatto alla fin fine. Se Dio vuole... Eh, no. È ancora qui. È ancora qui bello presente. Dannazione. Madonna, ma che ansia. Quando va via? Oh, no. È questi? Per la miseria. Via, 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 via. Ok. Vai al diavolo. Prendi? Opla. Ah. Era un ascensorino. Oh. Ciao, piccoli. Non vi nasconde... Non vi nascondete, dannazione. Oh. Non abbiate paura di me. Non vi faccio assolutamente niente. Mi serve soltanto il vostro aiuto temporaneamente per una cosetta. Aspetta. Aspetta. Non è che per caso... C'è di nuovo qualche malefico... Allora, uno è lì. Che disegna. Eccolo qui. Ciao. Dove pensate di andare? Vieni qui. Vieni qui. Vieni qui. Dai. E su. Però, tu pure. Vieni qua. Dov'è che sei? Vieni qua. Oh. E uno. Visto? Non ti faccio niente di male. Quell'altro dove è andato, invece? Vieni qua. Ah. Ah, ho capito. Niente. Sempre che non so dove sia andata a finire quell'altro. Però, almeno, piglio questo, intanto. Eh. Mi serve qualcos'altro per salirci sopra. Mi sa. Ah. Ok. Ok. Mi sa che... Ho capito cosa devo fare. Mi sa tanto che ho capito. Eh. Com'è bloccato? Che diavolo stai parlando? Ok. Credo di dover fare proprio questo, io. Vado qui. Ok. Eh. Sì, però... Piccolino, mi dovresti spingere tu. Non ce la fai, vero? No. Ok, ho capito. C'è una cosa simile. Allora, siccome ondeggia un po', se lo lascio qui al centro... Io posso fare questo. Mannaggia la miseria, guarda! Ogni tanto in questo gioco non riesco a pigliare le proporzioni. Ecco. Devo aspettare che si avvicini leggermente. È esattamente così. Ok. E adesso... Aspetto che vado un pochettino in là. Porca miseria. Riproviamoci. Magari sono solo stato sfortunato. No, è che si muove proprio troppo poco. Aspetta. Dobbiamo metterlo un po' più in qua. Ma mentre la nave è più o meno dritta, lo lascio qui. Quindi si dovrebbe muovere abbastanza verso di là. È la madonna! Ma che davvero? Ok. Aspetta, aspetta, aspetta. Corri. Ma vai affanculo! Oh, no, guarda! Che odio, guarda! Certe volte non riesco a pigliare le proporzioni. Dai, 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 dai! Ma davvero? Stai dicendo sul serio? Dannazione! Eh? Fermo, dove vai? Ui! Oh, ce la farò? No, vabbè, non ci credo, dai! Su! Oh, ce l'ho fatta. Circa meno quasi. Ok, è sufficiente. Mamma mia, pensavo di non farcela. Ehi, vieni qui. Ciao, tesoro. Vai giù. Ciao, piccolo. Allora. Vieni un po' qua. Non serviva andare sopra qualcosa. Effettivamente. Eh! Ho capito. Ah, aspetta, aspetta. Eh, dai! State dicendo sul serio? Per l'amor di Dio? Niente. Vai su. Uno. Due. Adesso per piacere. No. Niente. Devo trovare il terzo. E dove diavolo è, però? Dove è andato a finire? Ah, va, eccolo. Mica l'avevo visto. Ok. Andiamo su. Coraggio. Eh, ma che cosa ci ho guadagnato io? Assolutamente niente, perché sono un maledetto idiota. Ecco che cosa. Dovevo metterci qualcosa. Tipo quello. Rifacciamo. Dovrebbe andare bene. Ok. Ehi, piccoli. Coraggio. Oh, venite qua. Tutti e tre. Tutti e tre. Ok. Ora andiamo giù. Coraggio. Andiamo pure noi. Perfetto. Ah, ci contavo. Ma perché se non avesse funzionato quello non sapevo proprio come attivarlo, sto fare. Opla. Bravi. Venite con me. Ah. Ehi. Perché quello deve rimanere a peso lì? Per forza. Eh, per un posto, infatti, eccolo qui. Venite qua. Vi metto al lavoro, schiavi. Ecco, ovviamente sono due. Dai, forza, forza, forza. Oh, bene. Oh, adesso dovrebbero essere davvero tutti, eh. Andiamo. E vai che funziona. Perfetto. Dov'è che ci porta? Ah, mi sono ricordato, giustamente, che qui siamo in una nave, è il motivo per cui ondeggiano le cose. Quindi questa è la sala motori. Ecco, forse è il caso di scendere un pochettino prima di venire carbonizzati. Perfetto. E vediamo un po'. Oh. Ciao. Ok. E siamo in una stanza. Va bene. Ragazzi, io direi di fermarci qua, che questa puntata è stata abbastanza risolutiva, devo dire. E purtroppo gli enigmi li ho risolti in maniera un pochettino rocambolesca e un po' snervante, devo dire. E mi dispiace. Cercherò di essere un pochettino più efficiente. Certo è che il gioco stavolta proprio non ha collaborato, diciamo così. Ok? A mia leggerissima discolpa. Va bene, gente, per oggi è davvero tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie. D'accordo? A presto. A presto.